Questa terza sessione consideratela con beneficio d'inventario, così tutte le definizioni spesso sono aleatorie. La cosa importante è che in questa sessione noi offriremo all'attenzione di tutti alcune esperienze che riteniamo importanti, che riteniamo utili, si sente, che riteniamo utili sul piano sociale. È una parola semplicissima, la capiamo tutti e quindi la diciamo. Teniamo presente che non tutto è sempre scontato, cioè le biblioteche sono strutture, presidi di utilità sociale. È una bella definizione ma non sempre viene verificata dalla pratica, quindi non sono definizioni scontate, sono definizioni, sono concetti che ci servono per aiutarci a valutare, interpretare, a seguire, a promuovere, a incoraggiare, ma sono concetti che hanno solo questa funzione di guida. Poi però determinate cose avvengono o non avvengono e molte volte, direi, in molti casi nel mondo delle biblioteche non avvengono e quindi è importante prestarci un po' di attenzione tutti quanti noi. Il tema generale di questo convegno è, non voglio dire le emergenze ambientali, comunque le variabili ambientali. Io vorrei esprimere un concetto che è un concetto che fa parte delle mie convinzioni profonde, ma naturalmente non sono necessariamente convinzioni di tutti. E per esprimere questo concetto sono partito da un libro recente di un demografo molto importante e molto interessante, che è Massimo Livi Bacci, che tutti quanti conoscete, penso. Il quale dice, scrive a un certo punto di questo libro, il pianeta in dieci mili anni di storia si è ristretto mille volte. Allora, su questo tema delle problematiche che ha il nostro pianeta, problematiche di sofferenza oggi, allora si apre un dibattito incredibile fra si è aperto e si alimenta, un dibattito incredibile fra, usiamo anche qui dei termini da prendere con beneficio di inventario, fra catastrofisti e ragionevoli. Tutti noi che siamo qui presenti, compresi gli illustri relatori che sono da questa parte del tavolo, possono essere incasellati sicuramente in una delle due categorie. Ma quando diciamo catastrofisti non intendiamo dare una connotazione negativa, intendiamo dire persone che pensano che i problemi ambientali siano problemi serissimi e che potrebbe venire prima o poi la catastrofe. Ci sono molti libri, molti rapporti scritti nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, in cui appunto si prevedeva la catastrofe a breve, qualora non si fossero introdotti determinati correttori. Poi ci sono i ragionevoli, coloro che dicono che tutto sommato poi l'uomo, siccome è dotato di materia grigia e anche forse di qualche pulsione etica, può avere la capacità di governare le problematiche di sofferenza e quindi tutto sommato queste catastrofi forse non si determineranno, sono un pericolo incombente, una paura, ma non si determinerà. Massimo Livi Bacci cerca di uscire da questa antinomia, da questa discussione dicotomica. Lui dice al di là di chi ritiene di essere un po' catastrofista e al di là di chi ritiene invece di essere un po' ragionevole c'è un dato di fatto che non può essere contestato, è un dato di fatto ormai oggettivo e cioè che c'è un significato, lui dice, scrive proprio queste parole, il significato per l'umanità del vivere in un pianeta che avendo perduto la sua immensità sta scoprendo i suoi limiti. Certamente se in 10 mila anni di storia, non parliamo dei milioni di anni in cui c'erano i dinosauri, noi non sappiamo le dinastie imperiali dei dinosauri, non le possiamo conoscere, però sappiamo che in 10 mila anni di storia se il pianeta si è ristretto, perché per esempio è aumentata la pressione demografica e così di storia, arriveremo a 11 miliardi tra poco di abitanti, certamente c'è un problema di limiti, c'è un problema di limiti, che siano limiti che poi porteranno a una catastrofe, che siano limiti che verranno invece governati attraverso la virtù di ragionevolezza dell'essere umano, è una cosa, però i limiti ci sono, quindi dobbiamo sostenere che nell'era geologica dell'antropocene, che è stata un po' battezzata così, quella popolata dal biped intelligente, che saremo noi, questa era presenta problematiche di limiti, di limite, che non possono sfuggire dal sistema delle biblioteche e bibliotecari. Naturalmente si dirà che tutte le biblioteche sono, e i bibliotecari sono consapevoli del limite e sono consapevoli della importanza dei problemi ambientali, certo però c'è da dire che molte biblioteche non affrontano queste tematiche in modo consapevole, in modo consapevole significa attraverso anche una forma di organizzazione, di promozione, che si traduce in programmi, progetti di attività e così via. La famosa declinazione, le famose tre declinazioni che poi sono da leggere in termini di melting pot, cioè di possibilità di confonderle, di mischiarle, perché non avremo mai, qualche volta si può avere una biblioteca che sia solo una eco-biblioteca per le soluzioni strutturali, per il tipo di location, cioè la valenza biblioteca, la biblioteca senza di carta, quindi una eco-biblioteca da questo punto di vista. Così come ci potrebbe essere, possiamo aggiungere, il bibliotecario girovago, cioè questa figura che ormai è in letteratura, il bibliotecario girovago è un bibliotecario che non ha la biblioteca, però ha un tablet sotto braccio e quindi va a prestare la sua professionalità di bibliotecario dovunque viene richiesto. E quindi questo è il bibliotecario senza biblioteca e forse può essere considerato anche una forma di eco-bibliotecario, oppure la caratterizzazione tematica delle collezioni, che è il concetto più immediatamente evidente e comprensibile, e le attività rivolte al territorio. Quindi, va bene, io questa terza declinazione, cioè la biblioteca che opera nel territorio in modo diretto e proattivo e che entra in sintonia con le speranze, le passioni, le paure, le volontà di cambiare, che si esprimono nel territorio, e una biblioteca che potremmo definire biofilica, epigenetica, verfaristica, biofilica perché non credo che possa esistere un'attenzione per l'ambiente che non sia contemporaneamente attenzione per la vita, cioè amore per la vita. Verfaristica, va bene, è un termine che ormai conosciamo tutti, e quindi queste biblioteche che hanno queste caratteristiche dovremmo svilupparle sempre di più. E questo convegno ha voluto dare un contributo allo stesso punto di vista. Ora veniamo alle relazioni di questa sessione. Noi daremo la parola nell'ordine a Piero Cavaleri, che è direttore della Biblioteca Rostoni della Libera Università di Castellanza, il quale ci ha già scritto una recensione del volume pubblicato dal live su Eco Biblioteche, Eco Archivi, Eco Musei, ma lui adesso ci parlerà, farà qualche riflessione su questo. Dopodiché daremo la parola ad Emanuele Guidoboni, dell'Accademia Europea, che ci racconterà delle cose molto interessanti che riguardano l'attività di tre decenni di un gruppo di lavoro che ha coinvolto 320 biblioteche e 470 archivi alla ricerca delle tracce dei terremoti e quindi la possibilità attraverso le carte, attraverso l'intagine, nei patrimoni preziosi delle biblioteche e degli archivi di dare un contributo per la lotta ai terremoti, la prevenzione dei terremoti, per poter capire la problematica dei terremoti. Poi parlerà Angelo De Veris, che è il responsabile della Biblioteca San Matteo degli Termini in Perugia, sugli orti. Questo è un tema, lui lo tratterà, che riguarda molte biblioteche che si sono dotate di orti urbani o idattici, con cui fare attività didattiche soprattutto con la gioventù e quindi li chiameremo anche bibliotecari contadini, non so, possiamo usare questi termini. Poi ci sarà l'intervento non di Carmen Galluzzo, ma del marito di Carmen Galluzzo, che è Edmondo Motolese, il quale è anche, come lui dirà, un operatore di una biblioteca, la biblioteca Motolese di Taranto, che ha la caratteristica di essere a poche centinaia di metri dalle ciminiere di quella fabbrica di morte che è l'Irba, perché l'Irba è una fabbrica di morte a Taranto, il mostro d'arciario. Io personalmente, in molti interventi, gliel'ho detto a Edmondo, in molti interventi che ho fatto qui e là come presidente dell'API, eccetera, li ho chiamati bibliotecari eroi, perché i cittadini del quartiere Tampone, il quartiere dove c'è vicino all'Irba, attaccato all'Irba, sono molte volte povera gente che non si può trasferire altrove e quindi deve crescere i figli, devono vivere in mezzo ai veleni. Però i bibliotecari che ci sono in questa biblioteca hanno fatto una scelta, una scelta di vita, una scelta di lavoro, quindi sono dei piccoli eroi, dei grandi eroi, e lui ci racconterà qualcosa di questo. Poi ci sarà un intervento molto interessante di Alessia Romeo, del CS, che è qui nella mia sinistra, ci illustrerà anche un interessante kit didattico, che è un kit didattico in cui vengono affrontati i temi della giustizia ambientale, del cambiamento climatico e della migrazione ambientale. E poi ce l'illustrerà lei, kit che si potrebbero benissimo utilizzare sia da parte degli insegnanti sia da parte degli studenti e comunque possono essere degli strumenti che entrano nella scatola degli attrezzi dell'eco bibliotecario e dell'eco biblioteca. E poi abbiamo Luisa, è venuta Luisa, cioè poi Luisa Marcarta. Va bene, Luisa Marcarta ci porterà l'esperienza di una biblioteca che lei ha definito parrocchiato territoriale, parrocchiato territoriale, istituita nella parrocchio di Sant'Ignazio di Antiochia. E poi in una zona, in un quartiere tra il parco degli Acquedotti e quello dell'Ampia Antica qui a Roma, quindi in molti romani conosco come sta questo sito, questa location. È lei che insegna a Roma 3, però prenderà la parola... Ah, che sta? Io non vedo bene. Sta lì? Ah, no, non c'è. Va bene. È vero. Prenderà la parola, non come i docenti di biblioteconomia, ma prenderà la parola come volontaria, bibliotecaria volontaria della parrocchia, della biblioteca parrocchial territoriale dello statuario. E' così. E questa è la sessione. Quindi io darei subito ora la parola a Piero Cavalieri per il suo... Naturalmente io sarò molto severo sui tempi, perché dobbiamo rispettare i tempi. Quindi abbiamo direi dieci minuti per ciascuno. Per qualcuno potremmo anche fare qualche piccola eccezione, perché io sono il coordinatore della sessione e decido le eccezioni. Però dobbiamo cercare di attenerci ai dieci minuti per ciascuno. Prego. Io, grazie, la demà, riconosco la sua autorità, perché qualcuno che decida è sempre necessario. Quindi cercherò di stare assolutamente nei dieci minuti. Anche perché il mio compito è abbastanza semplice, devo semplicemente parlare di un libro importante. Due o tre mesi fa Padovano mi ha contattato e mi ha detto, mi fai Merlinci, ci fai una recensione. Io devo essere onesto, non sono un ecoentusiasta, sono una persona che rispetto ai problemi del mondo cerca sempre di avere un atteggiamento riflessivo, documentato e con un tipico dicetticismo. Io vengo da una zona, giustamente Valdemaro parlava dell'ecomostro che c'è a Taranto, ma io vengo dalla Brianza. L'ecologia in senso che della cittadinanza, della consapevolezza dei cittadini è nata dove abito io. È nata a Seveso un giorno di luglio del 1976, io avevo 19 anni e a un certo punto si è bruciacchiata una zona enorme perché è stato l'unico vero grande incidente ecologico italiano in cui c'è stata la diossina che è andata in giro. Quindi ho assistito alla nascita dell'ecologia come divulgazione in Italia. C'erano antecedenti e quello che vi posso dire è che dove vivo io le biblioteche civiche come istituzione diffusa e l'ecologia sono nata nello stesso momento, metà degli anni 70, quando stava cambiando il mondo, cambiando il mondo perché la gente ha cominciato a ragionare e a pensare che l'ambiente non era più una risorsa infinita e utilizzabile all'infinito e dall'altra parte perché sempre le stesse persone, sempre la stessa gente ha capito e ha cominciato a pretendere di poter accedere alla conoscenza in modo sociale. Le biblioteche sono questa cosa. Quando abbiamo capito che l'ambiente non era qualcosa da sfruttare abbiamo capito in contemporanea anche che dovevamo avere delle istituzioni che per tutti fossero un punto di accesso alle conoscenze. Cioè l'ambientalismo per come lo vivo io è l'ambientalismo scientifico, non è l'ambientalismo delle emozioni e la biblioteca è l'istituzione che sul territorio insieme alla scuola porta l'accesso alle conoscenze tra virgolette ma un po' scientifiche a disposizione di tutti. Quindi nel leggere questo libro io mi sono dato tre chiavi di lettura. Uno, il mio punto di partenza è stato dirò se c'è, se ci sono questi tre dias, questi tre problemi. Allora io non penso che le biblioteche debbano aderire a un'ideologia ecologica. Cioè le biblioteche sono istituzioni che sono al servizio di una verità sociale, cioè una verità che le società, la società si dà in quel momento. Il meglio che può fare è il meglio che si può fare in quel momento per studiare, affrontare e valutare i problemi nel modo più razionale e produttivo possibile. Le biblioteche sono questa cosa. Se rinunciano a essere questo e quindi qualsiasi concessione alla pura emotività non fa parte della storia delle biblioteche. L'altro problema che può sorgere quando le biblioteche vogliono essere ecologiche è quello di volersi assumere un ruolo che non hanno, cioè diventare, pretendere di potersi occupare di tutto. Le organizzazioni sociali hanno dei ruoli, hanno dei compiti e quei compiti sono importanti. Rinunciare al proprio, cioè occuparsi di tutto significa di spesso non occuparsi più di nulla. Rinunciare a essere qualcosa che si deve essere. Quindi le biblioteche sono all'interno della società, hanno un loro ruolo, secondo me possono essere ecologiche se svolgono il loro ruolo prima di tutto. Quindi il terzo problema è, e per fortuna questa cosa è riconosciuta nel libro, il terzo problema è che le biblioteche ecologiche non possono essere biblioteche speciali. Sono le biblioteche che devono essere ecologiche, non le biblioteche ecologiche sono qualcosa di in più e diverso. Perché questo? Ma ce l'ha ricordato stamattina il professor Nibia, quando ci ha detto, cari signori, fatti bibliotecari, non lasciate disperdere i patrimoni conoscitivi, siate nelle vostre comunità, nel vostro ruolo, nelle vostre realtà, prima di tutto quell'istituzione che fa in modo che le conoscenze passino da chi le produce, a chi le ha bisogno. Cioè le comunità hanno assoluto bisogno di affrontare i problemi, le decisioni che devono prendere valutando tutti i pro e tutti i contro sul lungo periodo. L'ecologia è questa cosa nella sua essenza fondamentale, cioè avere cura di dove si vive, non mettersi il bollino verde sulla giacca. Quindi per avere cura di dove si vive, uno degli aspetti fondamentali è conoscere dove si vive, conoscere le relazioni tra noi stessi e l'ambiente dove siamo e decidere ogni volta nella maniera più consapevole e razionale possibile. Quindi partecipare alle decisioni, valutare cosa decide di fare il comune quando fa un piano regolatore, valutare cosa decide lo Stato quando prende alcune decisioni. In questo la biblioteca può esserci. Qual è il contributo più importante secondo me di questo libro? Il contributo più importante non è quello relativo alle biblioteche, che sono sicuramente importanti i contributi della biblioteca, colmano una lacuna come ho scritto nella mia recensione questi contributi, però è quello che riguarda i musei. Perché? Perché hanno una storia più lunga gli eco-musei, hanno cominciato a riflettere su questo concetto già negli anni 70 e non quasi tutti, anche io ero ignorante su questo, siccome non ne occupo di musei, pensavo che gli eco-musei, per come li definissero i museologi, fossero musei ambientali, musei che riguardano, che stanno all'aperto, musei che riguardano aspetti particolari della natura. Quello che ho scoperto e mi ha riconvinto nelle mie convinzioni che le biblioteche possono essere eco se sono biblioteche è che gli eco-musei sono questa cosa. Gli eco-musei sono musei della comunità, musei che sono inseriti nella comunità e che hanno come orizzonte fondamentale l'ecologia umana, cioè il fatto che l'eco-museo è lì perché aiuta una comunità a riconoscere se stesse e a progettarsi per il futuro rispettando la propria storia, l'ambiente in cui è inserita e la realtà per quello che è realmente. Quindi l'eco-museo, come è definito in questo articolo, non è un museo dell'ecologia, ma è un museo dell'uomo. E la biblioteca che vuole essere eco, leggendo tutti questi contributi, secondo me è una biblioteca che vuole essere fondamentalmente una biblioteca della propria comunità. Ha la capacità di svolgere il proprio ruolo, che è un ruolo che riflette sull'universale. Cioè la biblioteca, il bibliotecario in primo luogo, sceglie sempre che cosa portare nella propria comunità, pescandolo dove? Nel immenso panorama delle pubblicazioni che esistono. E questo è l'universale. Le pubblicazioni che devi scegliere sono quelle che sono, sempre rispettando il fatto che la verità assoluta non esiste mai, quelle più vere possibili. E quindi porti l'universale dove? Nel locale. L'altra parte del lavoro della biblioteca è quello di tenere i piedi nella comunità. Quindi portare l'universale che è utile nel locale. Ecco, facendo questo realizzi la cura della casa dove le persone vivono. E quindi la biblioteca ecologica è la biblioteca che vuole fare la biblioteca, che vuole essere protagonista nella propria comunità assumendosi rischi, responsabilità, facendo quello che deve fare. Cioè aiutando la comunità a crescere dal punto di vista conoscitivo e fino a essere in grado di prendere le decisioni migliori possibili in ogni momento. Cioè a Taranto i tarantini devono decidere qual è la decisione migliore che devono prendere oggi per quella fabbrica lì con tutto il sapere scientifico e con tutti i problemi economici che nascono. Quindi è una decisione che dovranno prendere e le biblioteche saranno protagoniste se aiuteranno la comunità a prendere la decisione non giusta, ma la migliore che può essere presa in quel momento lì. Bene, ringraziamo. Io non farò i commenti di cortesia alla fine di ogni intervento, do subito la parola alla professoressa Guido Boni. Grazie. Buonasera, ringrazio per questo invito. Sono nel ruolo un po' scomodo di utente delle biblioteche. Non sono una bibliotecaria, sono una sismologa storica che ha fruito delle biblioteche come di una grande memoria disponibile. Ecco, se riusciamo a vedere la prima. Bene, grazie. Ecco, il titolo che avete visto dal programma è Lo studio dei disastri sismici e il ruolo delle biblioteche, ma potrebbe avere come sottotitolo il valore della memoria. La memoria delle comunità, la memoria delle persone. Queste sono state le biblioteche per questo gruppo di lavoro che ha costruito nel tempo il catalogo dei forti terremoti in Italia su cui ho fatto un intervento nel volume del convegno precedente. Ma vorrei farvi vedere intanto perché, perché la storia, cosa c'entra quei terremoti. Siamo abituati a vederli sempre come un settore tecnico scientifico. Beh, la storia è quasi l'altra metà del cielo della sismologia. La sismologia è strumentale e memoria di quello che c'è già stato. E quindi la storia si dice quando, dove e come. Poi anche l'archeologia può dare un contributo, poi ci sono gli ingegneri, ci sono i geologi, ci sono i geofisici. Quindi studiare i terremoti, studiare i disastri sismici del nostro paese vuol dire mettere assieme dei saperi diversi. Quindi il gruppo di lavoro che ha lavorato sul catalogo dei forti terremoti è un gruppo di storici. E la storia ha dato un contributo importante. Vedete questo schema velocemente. Se noi avessimo solo i dati strumentali, copriremo quel pezzetto, tre, quattro decenni di tempo, con la sismologia storica questa finestra di osservazioni si amplia moltissimo. L'archeologia può dare in modo ovviamente diverso e puntuale dei contributi. La paleossismologia contribuisce ad allargare le osservazioni, ma se già si conoscono le faglie attive. La storia dà il contributo più importante perché ci fa conoscere gli impatti dei terremoti e gli effetti nei singoli paesi. Questo schema, che non vi spiego perché il dottor Morghesi mi dovrebbe dare due ore di tempo, è però lo schema concettuale per passare dalle fonti storiche che noi troviamo nelle biblioteche o negli archivi fino ai dati sismici. Vedete questa carta di mezzo, questi puntini colorati, sono gli effetti classificati nelle singoli paesi interessati a un disastro sismico. Poi si possono fare anche degli studi a livello urbano e anche questo sono molto importanti le informazioni scritte per conoscere gli effetti, in questo caso è la città di Palermo. Poi si arriva alla fine a un catalogo, in questo caso parametrico, che è quello che riassume tutto, dove c'è una grande perdita di informazioni perché bisogna ricorrere a degli altri cataloghi per poter avere un'immagine dei terremoti. Questo è il catalogo parametrico italiano che è una specie di sintesi delle conoscenze. Bene, la base, stiamo sempre parlando di dati storici, non strumentali. Allora, con la ricerca storica noi abbiamo messo in luce, facendoci, penetrando dentro una tradizione storiografica italiana molto più antica di noi, che è cominciata addirittura in età moderna. Quindi ecco il ruolo delle biblioteche, di fornirci queste, consentirci l'accesso a queste memorie straordinariamente importanti e preziose che ci invidiano i nostri colleghi non italiani. Pensiamo a paesi che hanno storie molto più piccole per varie ragioni, gli Stati Uniti più di 200 anni di storia sismica non riesce ad avere. Noi spassiamo in due millenni di storia, noi e alcuni dei paesi del Mediterraneo. E quindi abbiamo messo a disposizione, si trattava di rivederli, dati, di riconoscere, di trovare terremoti sconosciuti, di ampliare queste immagini. 4.000 terremoti noti, ci sono 34.000 scosse classificate da questa tradizione che ci precede e che ancora è questo grande set di dati che va analizzato e abbiamo messo in luce questi 242 grandi terremoti, diciamo per mille anni, dal mille al ventesimo secolo. Ma abbiamo studiato anche i terremoti antichi e i terremoti medievali. A cosa sono serviti questi dati? Prima di tutto a conoscere i terremoti dal punto di vista scientifico, perché è stato l'ambiente scientifico che ha promosso queste ricerche, il bisogno di conoscenza. E con questi dati si è strutturato, si è definito il modello strutturale italiano, vedete quei quadrettini, sono proprio i terremoti avvenuti, poi c'è la interpretazione anche geologica, quindi il quadro è molto più complesso di quello che si conosceva prima di queste ricerche. Siamo in questo un paese molto avanzato e devo dire anche molto immediato, per esempio anche dai nostri colleghi giapponesi, che non hanno un catalogo così ricco e così sistematico come siamo riusciti a fare. Qui vedete l'andamento dei terremoti nel tempo, qui ho ottenuto sempre gli ultimi mille anni anche per velocità, e vedete qui certo c'è una rarefazione di informazioni anche perché abbiamo perso fonti o forse ricerche che vanno di nuovo approfondite, e poi le fonti seriali e la grande e straordinaria richiesta di informazioni dall'età moderna in poi. Questo è se noi abbassiamo, zoomiamo, diciamo così, dal 1800 a oggi e abbassiamo il livello di intensità epicentrale, vedete i terremoti sono molti di più, sono 183 eventi, queste bandierine sono i maremoti correlati. La cosa interessante è che c'è un rallentamento, si rileva, dell'attività sismica, noi qui non abbiamo perso i dati perché sono i nostri anni, e questo ci può dire che ci potrebbe essere una ripresa nei prossimi anni oppure può proseguire questo rallentamento perché i terremoti avvengono per dinamiche che cambiano nei milioni di anni. Quindi se noi ribaltassimo questo grafico per i prossimi secoli, beh, sarebbe molto simile a quello che potrebbe accadere. Ecco anche a cosa serve questa ricerca approfondita. Questa è un'immagine, sì, è un'immagine dei terremoti, della storia d'Italia, da quando l'Italia è unificata, dal 1861 al 2011, sono 34 disastri sismici, non terremoti, disastri, perché ci sono stati altri 86 terremoti, e 1560 località colpite. Cosa vuol dire questo? Che tantissime ricerche fatte a livello locale, biblioteche civiche, biblioteche comunali, biblioteche private, qualunque siano, possono contenere delle informazioni preziose, sono relazioni, sono corrispondenze, sono a volte cronache molto dettagliate, quindi c'è un monitoraggio, diciamo, da fare, che sarebbe ancora da continuare proprio dentro le biblioteche italiane. Queste sono le sedi degli archivi, che abbiamo visto, sono 462, e qui non mi diffondo, ma c'è tutta la ricchezza straordinaria delle fonti amministrative, e 318 le biblioteche, ogni puntino è una biblioteca, sono 76 statali, 158 civiche comunali, 33 ecclesiastiche vescovili, 43 di accademie e di deputazioni, e 8 di osservatori. Quindi abbiamo tenuto conto di una gamma molto vasta. I prodotti sono disponibili, ovviamente il catalogo dei forti e terremoti è nelle sue tre edizioni, e questi sono i cataloghi di terremoti antichi e medievali. Questa è la videata, diciamo, con un brutto neologismo, passate, del catalogo dei forti e terremoti, come era prima dell'attacco che ha avuto degli hackers. Perché questo succede, la risposta è stata molto debole, dell'Istituto San di Geofisica e Vulcanologia, che è responsabile di questo patrimonio di dati, perché c'era una banca dati qui dentro, gestita con una web GIS, quindi si poteva fare un'interrogazione geografica e si sta discutendo in questi giorni. Vedete che per i terremoti antichi e medievali c'è anche tutto il Mediterraneo, perché sono stati assorbiti gli studi del Mediterraneo dei terremoti antichi e medievali. Quindi è un quadro estremamente ricco che doveva essere approfondito. La risposta è debole dal punto di vista delle istituzioni, che è stata ragione di molti inquietudini. Oggi c'è una fase di transizione nel catalogo dei forti terremoti, può essere usato vagamente come un GIS, qui ovviamente si vedono tutte le domande che si possono fare allargando, zoomando sopra, ovviamente questa è un'immagine statica, perché è una banca dati. Si spera che possa venire fuori qualcosa di nuovo. Ma perché ho fatto questa lunga premessa? per segnalare questo ruolo formidabile che dovrebbero avere non solo le biblioteche come istituzione, ma i bibliotecari. Cioè i bibliotecari dovrebbero essere coinvolti in queste ricerche, perché riguardano i territori, il territorio dove loro stanno, perché conservano memoria di quel territorio. E io credo che una prospettiva di queste ricerche possa andare proprio in questo senso, cioè di rendersi conto che le biblioteche sono uno snodo di civiltà importantissima per la storia dei territori. I disastri sismici sono uno degli impatti di tipo ambientale, forse quello più frequente, perché noi abbiamo in Italia un disastro sismico ogni 4-5 anni. Disastro, è un terremoto. Ne perdiamo memoria, perché nessuno ormai si ricorda più del terremoto dell'Emilia che è venuto nel 2012. Ci ricordiamo di quello dell'Aquila per un'altra serie di ragioni e poi quasi niente. Ecco, tenere viva la memoria, capire il valore della memoria anche nelle relazioni umane e istituzionali, perché stiamo appiattendo, e questo non ci sta appiattendo tutto nel presente e questo non ci aiuterà a fare un futuro migliore. Ecco, quindi, l'auspicio che io faccio come utente delle biblioteche è, aprendo questa possibilità e che spero ci possa essere, di coinvolgere anche i bibliotecari in queste ricerche, perché sono ricerche entusiasmanti, importanti, che hanno una forte ricaduta scientifica e anche sociale e culturale. Noi non sappiamo ancora difenderci dai terremoti, non perché non abbiamo conoscenze tecniche, scientifiche, perché la cultura diffusa non chiede la protezione dai terremoti, perché non li conosce. Se noi avessimo questa consapevolezza e le biblioteche, come le scuole, come altre istituzioni, potessero fare da volano, è la popolazione che chiede poi la prevenzione. Noi stiamo ancora aspettando che dei politici decidano. Quindi io credo che ci sia un ruolo, che adesso c'è un deficit, a mio parere, proprio di democrazia in questo settore, e che ci sia un ruolo delle istituzioni culturali, fra cui in primis le biblioteche, ma anche gli archivi, di fare da snodo reale, consapevole a queste problematiche. Grazie. Naturalmente invitiamo a leggere il saggio di Emanuele Aguitoboni che è un bel saggio nel volume di cui ha parlato Piero Cavalleri. Adesso la parola a Gabriele De Veris per il suo lavoro. Salve a tutti. Premetto che la mia relazione non parla di tutti gli orti urbani o di tutti gli orti didattici che ci sono nelle biblioteche, anzi, parla solo dell'esperienza nella biblioteca dove lavoro. Però mi sembrava giusto ricordare che le esperienze di questo genere in Italia ce ne sono. Forse sono poco conosciute. Difatti ho apprezzato tantissimo il volume che è stato più volte ricordato perché appunto ha sicuramente colmato un vuoto. Qui vedete, io ho citato solo due esempi. la biblioteca Canova dell'isolotto a Firenze con il biblio orto che è attivo dal 2009 e la biblioteca giovenale l'orto giardino di Aguzzano qui a Roma così come ci sono molte più esperienze probabilmente di orti didattici in giro per l'Italia da Fogliano Redi Puglia fino a Palermo dove è evidente il coinvolgimento tra le biblioteche le scuole e quindi un'attività sociale soprattutto rivolta ai bambini e ai ragazzi. San Matteo degli Armeni vi dico che cos'è San Matteo degli Armeni è una biblioteca lì a destra la vedete com'è quando è stata inaugurata nel luglio 2012 quindi pochi anni fa sorge in un complesso che è stato costruito intorno al 1200 da una comunità di monaci armeni da cui il toponimo San Matteo degli Armeni la foto vi vedete in bianco e nero è come era agli inizi del 900 nel corso dei secoli la destinazione è cambiata la chiesa che è tuttora chiesa oggi è affidata a una comunità autodossa russa mentre quello che era il monastero ha cambiato funzione ed è diventato tante cose è diventata anche la villa di un cardinale con una preziosa collezione d'arte ed è diventata poi una serie di abitazioni di contadini poi private e così via fino al terremoto del 97 a quel punto si è svuotato tutto e per alcuni anni è stato tutto deserto successivamente è stato ristrutturato e poi è stata prima riaperta la chiesa e poi la biblioteca nel 2012 la biblioteca di cui vedete alcune immagini dell'interno fa parte del sistema bibliotecario comunale cioè di altre biblioteche del comune però a differenza delle altre è specializzata cioè abbiamo documenti libri materiali su temi di pace con violenza dialogo interculturale interreligioso diritti umani commercio eco solidale e ottimamente anche ambiente tra le cose più interessanti la biblioteca di Aldo Capitini che a parte la marcia per oggi assesi ha sviluppato tanto pensiero e tra cui la questione della democrazia da basso la partecipazione e così via e poi anche un centro di documentazione di Amnesty International ultimo elemento che vi dico è che da l'anno scorso ospitiamo anche i matrimoni civili vi ho dato alcuni elementi per capire qual è il contesto e per capire che effettivamente siamo dentro un territorio e ci sono delle relazioni forti già sviluppate tra queste ne ricordo altre due una collaborazione con le popolazioni Duamish e Suinomish di Seattle che è una delle città giuremellate con Perugia quindi stiamo parlando di popolazioni native che hanno una forte attenzione nel rapporto uomo-natura soprattutto perché loro l'hanno vissuta in maniera drammatica sull'ambiente che non c'è più un ambiente che per loro era fonte proprio di vita e poi l'altro elemento che è importante è questa istituzione del giardino dei giusti del mondo parliamo di un mese fa è un'iniziativa che è nata alcuni anni fa a Milano sulla base del giardino dei giusti di Gerusalemme e lega degli spazi verdi e l'attribuzione di alcune piante in questi spazi a persone che hanno operato a favore del bene dell'umanità quindi ogni anno vengono destinate denominate delle piante attribuite a determinate persone qui ho ricordato i nomi fra questi sicuramente riconoscerete la Napoli Tosca ma in particolare l'ultimo nome Vangari Mutamatai che è la prima donna africana aver ricevuto il Nobel per la pace e era una biologa un'ambientalista arriviamo agli orti urbani gli orti urbani sono un progetto che è nato nel 2011 quindi prima che aprisse la biblioteca il comune di Perugia aderì a questa iniziativa dell'ANCE d'Italia Nostra per la promozione degli orti urbani fece un primo accordo con l'associazione di quartiere ed ecco che qui torna l'importanza del territorio per definire un progetto per dire bene c'è quest'area tutta l'area sono 5.000 metri quadri quella intorno alla biblioteca una parte di questo terreno lo destiniamo a orti urbani e un'altra parte a giardino e così via i progetti proseguirono parallelamente perché c'era la risistemazione del giardino e la sistemazione dell'orto nel documento e nel progetto vi erano diverse tipologie orto sinergico orto a cassoni biologico delle perenni orto etnico e orto convenzionale a file e orto convenzionale a file che era suddiviso in parti una parte comune e sul progetto originario frazioni più piccole da destinare a singole persone poi nella realtà dei fatti questo frazionamento si è recompattato perché la dimensione della partecipazione ha cambiato il corso d'opera a quello che era il progetto più tutta una serie di altri spazi che sono poi in parte già stati realizzati nel corso di questi anni mentre la biblioteca era aperta proseguivano dei lavori di sistemazione dell'area verde che era stata abbandonata quindi quelle che vedete in queste foto sono dei lavori che già sono stati eseguiti quando abbiamo aperto la biblioteca praticamente l'area verde non era praticabile il 19 novembre 2015 si arriva all'inaugurazione quindi vedete il taglio del nastro la presenza delle autorità vedete un gruppo di persone che sono le persone del quartiere quelle che comunque hanno partecipato al progetto e che hanno dato poi concretamente vita al discorso degli orti perché il taglio del nastro è un momento ma c'è stato ovviamente un prima e c'è un dopo subito dopo c'è stata la creazione di un gruppo che si è allargato e ha superato i confini del quartiere c'è stato un passaparola quindi oggi praticamente abbiamo un gruppo di persone che si ritrova ogni giorno e in particolar modo il giovedì pomeriggio si trovano collettivamente per condividere il lavoro nell'orto ma anche condividere le buone pratiche le conoscenze lo scambio di informazioni sulla sulla semina la coltivazione la potatura la manutenzione ci sono persone che sono alle prime armi ci sono esperti ci sono agronomi e così via quindi è una composizione abbastanza ampia e naturalmente questo fatto ha portato poi anche a un allargamento cioè la comunità che era del quartiere del territorio è diventata una comunità più ampia si è ritrovata non solo per coltivare e seminare ma per svolgere altre attività è nato ad esempio un coro oppure nascono i momenti convidiali la biblioteca ovviamente ha ampliato la propria collezione quindi ha aggiunto le pubblicazioni sull'ambiente e sugli orti in particolare la foto che vedete dice cosa c'entra? C'entra perché è uscito da poco un libro che si chiama Il Concerto dove si mette insieme la parte musicale e la parte letteraria non solo legata proprio alla coltivazione degli orti qual è la prospettiva? La prospettiva immediata è la prossima settimana ospitiamo una serie di iniziative dalla mattina alla sera per la giornata mondiale della terra in cui verranno anche assaggiati i prodotti dell'orto verranno svolte delle iniziative anche col direttore della nuova ecologia si parlerà delle iniziative svolte a siatto nello stesso giorno ci saranno attività con le scuole concerti letture a tema e così via un altro appuntamento sarà per la giornata dell'ambiente si è stavata una collaborazione con Arpa Umbra per ospitare una serie di pubblicazioni specifiche quindi puntare anche molto sul discorso dell'educazione ambientale si svilupperà altrimenti il discorso dei rapporti con le città gemelle le città gemellate che praticamente sono diffuse ovunque come prassi sono un'ottima risorsa per allargare i propri confini e scoprire altre comunità e magari su questi temi hanno fatto qualcosa di più hanno fatto qualcosa di interessante rapporti con biblioteche ambientali tematiche e poi naturalmente sviluppare il discorso sia dell'orto che dei giardini adesso quest'estate potremo sicuramente utilizzare l'area esterna che fino a novembre scorso non era molto accessibile daremo vita a questo comitato scientifico per il giardino dei giusti in modo da perseguire negli anni a venire questo tipo di attività e poi ultima parte che avrei potuto mettere al primo posto continueremo la coprogettazione con l'associazione di quartiere perché come è stato detto più volte il rapporto della biblioteca con il territorio è fondamentale il territorio e la biblioteca sono una cosa vitale un rapporto indissolubile quanto è grande questo territorio sta in parte a noi definirlo però quello che stiamo cercando di fare dico plurale perché qui vedete il 50% dei bibliotecari che lavorano a San Natale degli Armeni è quello di allargare il più possibile questo territorio perché come vedete possiamo andare 50 metri più avanti oppure passare l'oceano e arrivare a Sialto vi aspettiamo grazie allora adesso la parola a Edmondo Motolese una sola cosa vorrei dire se noi facessimo un esercizio per capire come la funzionalità velfaristica del sistema bibliotecario italiano sia molto debole potremmo fare un esercizio di questo genere quando dico funzionalità velfaristica intendo dire funzionalità a favore del benessere delle persone concetto semplicissimo ma molto pesante costruiamo due cartine della nostra penisola in una cartina segniamo con un puntino tutti i SIN i siti di interesse nazionale a rischio che sono equamente distribuiti tra nord centro e sud forse ce ne sono ancora di più al nord per via dei guasti creati dall'industrialismo e poi facciamo un'altra cartina in cui segniamo con tanti puntini biblioteche che possiamo oggettivamente correlare a questi siti di interesse nazionale a rischio cioè biblioteche che in qualche modo intervengono sono attente alle problematiche di siti di interesse a rischio vedremo che questa cartina ahimè purtroppo avrebbe molto pochi puntini e quindi questo è un problema di importanza nazionale a mio avviso perché è di importanza nazionale il benessere delle persone ora ora do la parola a Edmondo la potenza buonasera 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 a tutti allora io rappresento immediatamente mia moglie perché lei avrebbe dovuto rischiare questa conversazione con voi e innanzitutto voglio dirvi perché nasce questa biblioteca Marco vuoi venire qui la biblioteca la ma non vuole se nasce per l'area non so tutto scusa puoi andare dove c'è il monitor è più facile no perché io mi muovo solo con il mio computer ecco perché allora mi chiedo scusa no vorrei che vorrei che facissimo dalla fotografia di mio figlio anzi di nostro figlio ecco questo è Marco un giovane liceale di 17 anni e maledetto il giorno dell'estate del 1994 mentre erano a mare mi direi ci telefonano e ci dicono che il nostro figlio aveva avuto un incidente proprio sotto casa noi tutto potremmo pensare meno che non lo risposto più da questa licezza mia moglie mi permetto di dire che una donna eccezionata ha creato una biblioteca perché il nostro figlio aveva tutti in scuola avrebbe dovuto frequentare l'ultimo anno di liceo classico era un ragazzo brillante era campione regionale di nuovo amava moltissimo andare a scuola ero tra gli accompagnoli e scusatevi questa piccola presentazione che sicuramente non ha nulla che vedere con le biblioteche ma capite quanta importanza può essere per noi mi prendeva in braccio perché era più grande di me e mi diceva una cosa bellissima papà le figlie soffrezze e core con questa espressione mi voglio far capire quanto sia stato importante questo momento di vita drammatica ma siccome da queste cose così brutte possono nascere anche delle cose belle e con la tenacia che mia moglie ha sempre tenuto ha pensato di continuare l'eredità di nostro figlio la lettura mia moglie è un insegnante oramai in pensione e insegnava nel famoso quartiere Tamburi proprio lì dove esiste insiste l'Italceder e ha incominciato a capire quanto sia importante comunicare con i propri alunni e quindi ha pensato di incominciare a rivolgere la propria attenzione verso la maturità di questi ragazzi e da quel momento in poi abbiamo iniziato come diceva il professore Melto dell'Università di Bari la questua dei libri delle persone che se ne volessero disfare e abbiamo raccolto e io lo dico con una punta di orgoglio ho fatto il facchino ho salito cinque piani a piedi là dove non c'era l'ascensore per raccogliere i libri che qualche volta erano inutilizzabili dal punto di vista della biblioteca però l'abbiamo fatto questo lavoro perché ci sentivamo di portare avanti questa iniziativa e a un certo punto quando abbiamo raccolto un numero consistente di libri abbiamo chiesto al nostro vescovo ora in merito di Taranto di trovarci un posto nel quartiere Tamburi per poter realizzare la biblioteca a nome di nostro figlio il vescovo ci ha concesso una stanza una bella stanza abbastanza grande e vi dico che la biblioteca è in linea d'aria esattamente distante dalle famose ciminiere del Little Cedar a 1200 metri considerate che il sindaco di Taranto ha emanato un'ordinanza con la quale vieta i bambini di giocare lì dove ci succede la terra proprio perché la terra è assolutamente inquinata e quindi presa da questa voglia di dare un contributo al quartiere mia moglie ha incominciato a realizzare anche delle iniziative per conoscere e far conoscere che cosa è il problema inquinamento io adesso incomincio a leggere qualche cosa che lei mi ha scritto perché io poi ho fatto solo il facchino lei ha fatto invece è stata la mente di questa iniziativa la biblioteca svolge la sua attività di promozione della lettura trovando scusatemi lavorando con le scuole le famiglie e gli adulti che la frequentano le esperienze che noi proponiamo riguardano la conoscenza del meraviglioso ambiente urbanistico monumentale in cui vivono gli abitanti e la conoscenza dell'ambiente l'inquinamento è al centro delle nostre attenzioni come di tutti quegli ambientalisti del territorio che si occupano della difesa del luogo in cui viviamo in una posizione molto concreta Alessandro Marescotti ambientalista del territorio che si occupa della difesa dei luoghi in cui viviamo con una posizione molto corretta ha cercato scusatemi qualche volta salto perché gli occhiali non sono quelli dunque vi chiedo scusa anche perché l'emozione l'inquinamento ambientale è al centro della nostra attenzione così come tutti quegli ambientalisti del territorio che si occupano della difesa del luogo in cui viviamo Alessandro Marescotti Michele Torsi Angelo Di Leo Beatrice Ruscio sono venuti nella nostra biblioteca a presentare i loro libri che raccontano storie di Taranto inquinata dibattito acceso e interessante è stato il tema dell'inquinamento e della tutela ambientale di estrema attualità condotto da Alessandro Marescotti ai soci della nostra associazione ma anche ai cittadini del quartiere qui mi interrompo perché Carmen che è mia moglie scusatemi se non l'avevo detto prima ha attivato un sistema abbastanza interessante ha creato le merende culturali che cosa ha fatto ha organizzato praticamente ha comperato delle aranciate non quelle insomma anzi lei ha tentato di farle a casa ha fatto delle crostate ha tentato di creare dei momenti di divago per i bambini delle scuole medie scuola in cui lei ha insegnato e ha coinvolto i genitori di questi bambini quindi per tentare di insomma di allettarli non ha presentato non ha iniziato dicendo presentiamo un libro di Tizio Caio Sempronio ma ha semplicemente iniziato invitando a giocare e a mangiare qualche cosa approfittando dopo aver scogitato questo sistema ha anche fatto parlare questi autori questi giornalisti Tarantini e questi autori che si sono praticamente presentati e hanno rappresentato le difficoltà che si sono dovute che si incontrano nel momento ambientale dunque vi chiedo scusa la libertà il benessere lo sviluppo della società degli individui sono valori fondamentali essi potranno essere raggiunti solo attraverso capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società la partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente così come da un accesso libero e senza limitazioni della coscienza al pensiero e alla cultura dell'informazione i temi ambientali in una biblioteca stanno diventando sempre più importanti e strategici in quanto su internet vi sono molte informazioni ma pochi libri in grado di offrire una base di conoscenza per chi si vuole appropriarsi delle conoscenze di base ossia di quelle che servono a capire l'informazione stessa che si presenta sempre più specializzata e complessa in questo campo la nostra biblioteca potremmo definirla anche se in parte biblioteca per l'ambiente e il nostro lavoro è volta a farla diventare luogo di raccolta e di condivisione di libri di base e luogo di incontro per approfondire e alfabetizzare la conoscenza scientifica vorrei aggiungere una cosa si parlavano di giardini condivisi parrebbe che i cipressi bonificano la terra in cui vengono coltivati mia moglie ha chiesto ma ancora non ha ottenuto dall'amministrazione comunale di piantare dei cipressi nel luogo in cui insiste la biblioteca la biblioteca è circondata non da 5.000 metri quadri come quella della biblioteca degli armeni ma da un semplice giardino di circa mille metri quadri non solo mille metri e mia moglie ha pensato visto che i ragazzini non possono giocare nella terra di creare appunto questa alternativa mia moglie è sempre quella lì al centro quindi quella signora Bruna con i bambini in braccio nonostante questo tentativo di creare un momento di così di bonifica l'amministrazione comunale nicchia non deve spendere neanche un centesimo è tutto a carico nostro ma ancora non abbiamo avuto alcuna risposta altro nostro amico in questa iniziativa è il dottor Orbello è un medico che fa parte dell'associazione dei medici ambientalisti il quale spesso incontra i nostri diciamo frequentatori tentando di spiegare qual è l'alimentazione corretta per questi luoghi per chi vive in questi luoghi io peraltro lavoro in azienda sanitaria ed alcuni studi epidemiologici è emersa una cosa disastrosa le mamme dei bambini che le mamme incinta hanno grossi problemi mi dice 5 minuti e quindi sarò veloce le mamme dei nostri bambini che sono incinta hanno il proprio latte da dare ai propri figlioli che allattano al seno praticamente con la diossina già dentro una cosa vergognosa e quindi quando non mi ricordo il suo nome diceva che i tarantini devono decidere che cosa fare non siamo noi i tarantini a doverlo decidere è la politica a un certo punto abbiamo scoperto che l'italseeder di Taranto guardate che sto dicendo quello era adesso non più però il 12% del PIL nazionale quindi noi siamo stati solo vittime predestinate e mai artefici del nostro destino questa è un'iniziativa del Biblio Pride appunto dove mia moglie ha voluto organizzare no è stata coinvolta da lui quell'uomo antipatico che ride no questa iniziativa che ha coinvolto molte scuole di tutto il quartiere di Tamburi tutte le scuole del quartiere di Tamburi vorrei dire tante cose ma credetemi sono abbastanza emozionato tra l'altro mia moglie ha creato anche una biblioteca all'interno del reparto di pediatria e credetemi anche lì è molto difficile perché stamattina si parlava che solo il 9% delle persone leggono veramente un libro invitare i ragazzi le famiglie a leggere un libro è una cosa difficilissima quindi lei mette in atto tutta una serie di stratagemmi che in qualche modo deve coinvolgere i bambini in maniera tale che non risulti una cosa pesante io mi fermo qui e vi chiedo scusa se sono stato molto così abbastanza impreciso rispetto a quello che avrebbe voluto dire mia moglie però vi assicuro che parlare di mio figlio mi crea sempre molta 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 emozione vi chiedo scusa grazie e creare una sessione che crede che è in parte di pedagogia dell'ospedale. Ora le domande, Andalessa Romeo, ci va a vedere questo interessante video didattico. Buon pomeriggio, io sono Alessia Romeo del CIS Onlus, il CIS è un'organizzazione non governativa che dal 1983 si occupa di trattare e spiegare un po' quali sono le relazioni tra nord e sud globali, in particolare a scuola per quanto riguarda il settore educazione ma anche in altri ambiti grazie alla cooperazione internazionale, grazie alla mediazione linguistico-culturale. I temi principali che sono stati portati a scuola negli anni sono stati quello della migrazione e quello dell'intercultura e da poco più di un anno stiamo affrontando una nuova sfida grazie ad un progetto europeo, il progetto SANE World Sustainability Awareness Mobilization Environment in cui si parla appunto di ambiente. Il progetto è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europe Aid. Come potete vedere i partner sono molti, sono 13 partner che realizzano le attività in 10 differenti paesi europei. Questo è quello di cui abbiamo voluto parlare con questo progetto, la sfida che abbiamo accolto all'inizio, al momento già dell'ideazione e della progettazione e cioè fare vedere quali sono le connessioni che ci sono fra le nostre scelte di vita e le conseguenze che queste scelte hanno sulle condizioni di vita di persone che vivono in altri posti, lontani ma anche vicini e le conseguenze che avranno sulla vita di persone che vivranno dove viviamo noi oggi tra qualche anno. Quindi questa è un'infografica che è stata realizzata per il progetto che fa vedere quanto in realtà tutto sia estremamente collegato e interrelato. Le attività del progetto sono delle attività laboratoriali, quindi stiamo realizzando dei laboratori a scuola che sono in corso in questo momento e termineranno a dicembre del 2016. Tra l'altro uno dei laboratori che stiamo realizzando utilizza proprio un libro di Miriam Dubini che si chiama Non toccate la terra che parla dei ragazzi di Taranto. Abbiamo un blended course che è in realizzazione e verrà diffuso nelle scuole in particolare per gli insegnanti a partire dal prossimo anno scolastico. Parliamo di un corso in parte online e in parte in presenza. Verranno realizzate delle attività all'aperto, un concorso europeo di buone pratiche scolastiche legate all'ambiente, un osservatore sulla giustizia ambientale fatto dagli studenti universitari per trovare dei casi di ingiustizia ambientale nei loro territori, una raccolta di buone pratiche nel sud globale e alla fine un gioco di ruolo online. Un ruolo molto importante nella realizzazione già delle prime attività di progetto è stato ricoperto dal CEDOC, così lo chiamiamo, centro di documentazione interculturale del CIES, biblioteca interculturale. Il CEDOC praticamente dall'inizio, dalla nascita del CIES come ONG, si è occupato di fornire la documentazione necessaria per la realizzazione dei progetti di tutti i settori del CIES. In questo momento è una biblioteca, è una mediateca, un centro di sorse che potremmo definire, come ha detto prima Valdemaro, veramente biofilica, nel senso che si occupa veramente a una grande attenzione per la vita, per la vita del quartiere, del territorio in cui si trova, della scuola che si trova sopra la biblioteca e delle scuole in genere. Un ruolo molto importante è stato quello ricoperto dal centro DOC proprio per la realizzazione del primo faticosissimo prodotto del progetto, che è questo kit, un kit educativo per insegnanti che vuole proprio portare a scuola questi tre temi fondamentali, che sono i tre temi del progetto, la giustizia ambientale, il cambiamento climatico e la migrazione ambientale. Questi temi si affrontano attraverso delle unità didattiche che presentano degli approfondimenti teorici e delle domande all'esperto. Affrontiamo moltissimi temi, dal valore della biodiversità e che cosa vuol dire la biodiversità per l'ecosistema, perché possiamo definire questa età, l'età delle migrazioni, che cos'è il cambiamento climatico e ci facciamo anche molte domande e quindi se la natura può essere soggetto di diritto, se siamo tutti responsabili allo stesso modo nelle emissioni di CO2, se il cambiamento climatico, ad esempio, influenza maggiormente la vita delle donne. Gli argomenti, come potete vedere, sono tanti. Il kit è strutturato con una serie di connessioni interne ed esterne, quindi ci sono delle connessioni con le altre uniti interne al kit, ci sono dei link a un glossario sempre interno che focalizzano quelli che possono essere i termini un po' più complessi o che necessitano di spiegazioni e poi ci sono una serie di link invece esterni che collegano il kit a siti web, a mappe, a infografiche, a paper, a tutto quello che si può trovare online. Il kit è stato realizzato da circa 30 esperti di tutta Europa, da operatori di ONG a docenti universitari, ricercatori, avvocati e in genere da esperti nelle materie che sono state inserite nel kit. Abbiamo pensato però che non fosse necessario solo affrontare in maniera teorica questi argomenti ma che fosse molto importante riuscire a dare agli insegnanti degli strumenti per realizzare poi delle attività e quindi poter trattare in classe in maniera anche più giocosa e più vicina al linguaggio degli studenti gli approfondimenti teorici. Quindi sono state realizzate circa 40 attività che sono suddivise in base alle competenze che possono stimolare negli studenti e appunto a cui si riferiscono in modo anche che insegnanti di discipline diverse possano lavorare con le diverse intelligenze dei loro studenti. Nel kit le attività si possono scegliere in base al target quindi in base all'età degli studenti coinvolti. Sono delle attività strutturate step by step quindi gli insegnanti possono seguire passo dopo passo tutto quello che devono realizzare. Uno spazio molto importante è stato quello del focus pedagogico e quindi realmente far capire subito all'insegnante dove si può arrivare con quell'attività. Un altro elemento molto importante è stato quello della bibliografia e anche nel caso della bibliografia che insomma come potete vedere si può scegliere il tipo di documento da trovare si può fare una ricerca per parole chiave una ricerca per lingua perché i testi che ci sono presenti all'interno della bibliografia sono testi di tutte le lingue di progetto sono 11 e si può fare ovviamente una ricerca sempre in base alle macro aree di cui vi parlavo prima. Un ruolo sempre estremamente importante è stato quello appunto del centro di documentazione qui vedete solamente alcune delle cose che vengono realizzate mi sa che abbiamo sbagliato powerpoint volevo farvi vedere un video se c'è internet forse lo possiamo trovare credo che ci sia internet ok scusate così intanto vogliamo l'occasione anche per vedere il sito mi si è bloccato sta andando ecco sta in primo piano nel sito c'è una piattaforma educativa in cui saranno inseriti tutti quanti gli strumenti che possono utilizzare i docenti quindi in seguito anche il blended course verrà inserito qui per il momento vediamo il tutorial del kit che un po' diciamo racchiude quello che vi ho detto io non c'è qui no dispiace c'è una musica di sottofondo però che musica c'era? la descriviamo queste sono le diverse sezioni di cui vi dicevo prima appunto gli approfondimenti teorici commenti ci sono 60 diverse sezioni si può appunto andare direttamente alle unit e avere un quadro diciamo complessivo come dicevo prima ci sono moltissimi link esterni in questo caso anche dei video questi sono un po' i temi e le attività in classe sono più di 40 appunto suddivise in base alle competenze che sviluppano è possibile fare delle ricerche attraverso delle mappe appunto queste sono tutte le attività presenti in cui si possono scegliere le attività in base alla materia che ci interessa di più e all'età questi sono i macro temi con gli approfondimenti teorici ancora le unit e alla fine ci sono il glossario e la bibliografia ovviamente tutto tutti i contenuti sono stati tradotti in tutte le lingue quindi in questo momento stiamo vedendo la versione inglese però c'è anche in italiano e nelle altre lingue di progetto questa era la bibliografia come vi dicevo è online, è gratuito quindi vi invitiamo ad andare sul sito a entrare nella piattaforma a fare un login perché per usufruire del kit è necessario appunto registrarsi e soprattutto a farci sapere poi ecco questa qui è la schermata del login a farci sapere poi che cosa ne pensate perché comunque il kit questa non è la versione definitiva ci sarà una versione definitiva a fine progetto che accoglierà tutti i suggerimenti che ci verranno dati dagli insegnanti o da chiunque insomma abbia anche solo dato un'occhiata ai contenuti e in più raccoglierà all'interno tutti quanti i prodotti del progetto bene grazie buonasera a tutti grazie di questa opportunità di condividere con voi questa esperienza che spero risulti di qualche utilità è veramente parlerò della biblioteca dell'esperienza della biblioteca statuario una biblioteca direi piccina picciao perché è proprio piccolina ed è anche è stata anche definita da alcuni ragazzi la bibliobomboniera perché veramente ci si sente così molto accolti e raccolti e nell'intervento non solo ecco vorrei sottolineare sia un impegno per l'ambiente ma anche diciamo l'attenzione all'ambiente come posso dire umano costituito insomma dalla rete di persone che hanno reso possibile questa esperienza e la rendono appunto continuano a renderla possibile viva e significativa sicuramente i punti di criticità sono parecchi però insomma voglio presentare velocemente alcuni aspetti mi soffermerò insomma su alcuni aspetti più legati al tema di questa giornata per così riflettere insomma su come la sostenibilità è stata affrontata in biblioteca la biblioteca statuario è biblioteca per la quale a proposito di sostenibilità appunto soprattutto la collaborazione la cooperazione bibliotecaria ma la collaborazione con una infinità di persone è assolutamente vitale statuario è un piccolo quartiere nel settimo municipio nella zona sud di Roma con in cui vivono insomma circa 4.000 famiglie e praticamente la parrocchia rappresenta un punto importante dimenticavo di dire una cosa importante la biblioteca sono solita definire questa biblioteca parrocchial territoriale perché appunto è un servizio voluto istituito dalla parrocchia di Sant'Ignazio di Antiochia ma aperto al territorio e nasce il statuario è inserito insomma in un contesto assolutamente unico che è quello è l'area tra il parco degli acquedotti e il parco dell'appiantica quindi io non so se Valdemar trova già degli elementi che possano far rientrare alla biblioteca insomma possano legittimarci a far parte di queste delle via quindi questo è un laghetto che si forma con l'acquamarcia vedete insomma l'acquedotto uno degli acquedotti sullo sfondo l'acquedotto Claudio colonie di pappagalli insomma è un contesto unico al mondo da un punto di vista naturalistico paesaggistico storico archeologico storico e via dicendo però come in tante altre zone non il servizio bibliotecario non riesce per quanto abbia fatto l'istituzione biblioteche e centri culturali del comune di Roma con cui siamo costantemente in contatto per quanto abbia fatto passi veramente da giganti negli ultimi anni insomma lo sviluppo e i servizi sono stati lo sviluppo delle biblioteche e i servizi sono stati veramente incredibili ma non sempre riescono ancora a raggiungere appunto l'utenza in maniera così capillare e allora a fronte di una situazione di resistenza da parte delle scuole del territorio che avevano dei locali meravigliosi al pian terreno privi di barriere architettoniche circondati da un giardino bellissimo ampi luminosi e via dicendo ma la cui destinazione è stata poi quella di magazzino di vecchie lavagne di vecchie fotocopiatrici in un momento in cui tra l'altro anche il il comune insomma poteva sostenere queste forme congiunte come poi è avvenuto negli anni successivi con i bibliopoint e via dicendo e a fronte appunto di questa situazione problematica e di un bisogno comunque ancorché inespresso inconsapevole di lettura ho avuto la fortuna e io sono veramente molto grata insomma alla sensibilità alla disponibilità del parroco di 13 anni fa insomma a Monsignor Giuseppe Attard che appunto mi disse ma qual è il problema e facciamola noi la biblioteca c'era già un piccolo locale destinato a biblioteca ma che si presentava insomma in una situazione assolutamente appunto inadeguata superato come patrimonio bibliografico non organizzato e oltretutto anche la documentazione anche della vita della parrocchia non veniva raccolta insomma in maniera sistematica e così ci viene descritto l'incontro con questa biblioteca prima che si effettuassero insomma dei lavori che l'hanno portata ad essere quella che attualmente e che speriamo insomma possa migliorare in futuro la biblioteca dello statuario erano passati pochi mesi da quando mio marito aveva acceduto a una lunga malattia e ci aveva lasciati quando io finalmente quando io ho finalmente capito che lui non se n'era andato per un viaggio sia pure lungo ma che proprio non sarebbe più tornato almeno fino alla fine dei tempi decisi di fare un sopralluogo alla parrocchia per vedere quali erano le attività dei fedeli oltre a frequentare le messe recitare i rosari e accompagnare i propri figli al catechismo della prima comunione della cresima entrando nel piazzaletto antistante l'ingresso laterale della chiesa vidi su una facciata una porta che si apriva sopra due alti scalini e lasciava scorgere all'interno degli scaffali metallici che sorreggevano diversi libri sovrastati da un semplice cartello con la scritta biblioteca ecco un posto che avrei amato visitare e frequentare ed ecco due giovani un ragazzo e una ragazza che con grande cortesia mi accolgono e mi presentano il loro piccolo regno pronto ogni domenica dopo le undici a offrire ai parrocchiani un buon numero di libri adatti ad ogni tipo di lettura il servizio di consegna e l'istituzione dei volumi veniva svolto dai due volonterosi ragazzi che adopravano polverosi registri enti di ruviani quaderni sotto il vigile sguardo di un accogliente sacerdote don Marco e compianto e subito mi sentì attratta da quel piccolo ambiente dalle pareti basse e grigie che superavano di poco la finestra e da quegli scaffali larghi e polverosi che sostenevano libri diversi non ordinati ma invitanti con i loro misteriosi titoli e colorate copertine scelsi un libro lo chiesi in prestito e me ne andai dopo aver regolarmente firmato il registro apposito da quel giorno decisi che avrei frequentato spesso la piccola biblioteca e se ce ne fosse stata l'occasione avrei volentieri collaborato alla sua gestione e diffusione nell'ambito parrocchiale così ci consegna questo bel ricordo sono dispettosa Maria Franca Vasselli Fiornovelli una colonna una biblio volontaria amatissima assolutamente fondamentale insomma in tutte le belle cose che siamo riusciti a fare finora e quindi ci siamo mossi vado molto molto velocemente per ottenere insomma per raggiungere un minimo minimo standard di funzionamento che ci desse la possibilità anche di presentare progetti di candidarci per progetti a livello comunale regionale insomma e usufruire di almeno una piccola fonte di finanziamento per esempio per acquistare scaffalature a norma fondamentale è stato per noi entrare nel progetto UMTS della regione Lastio e avviare un'attività appunto sia prima di tutto di formazione perché la formazione dei volontari è assolutamente fondamentale quindi è stata vitale insomma la formazione professionale dei nostri bibliovolontari sembra una contraddizione in termini però proprio là dove c'è questo intervento generoso appunto spontaneo volontario però è bene anche che sia comunque insomma guidato di una buona qualità abbiamo avviato tante tante attività e cataloghiamo partecipiamo ovviamente al servizio bibliotecario nazionale ci inorgogliamo tremendamente quando ci arriva qualche richiesta di prestito interbibliotecario e quindi insomma andiamo un po' oltre i confine sono appunto tante le attività insomma promozione della lettura laboratori e via dicendo varie insomma varie iniziative allora la vado siccome sono sì sì cinque minuti infatti vado preferisco a questo punto aprire perché vado molto più veloce per esempio una scelta che è stata fatta da subito è stata quella proprio perché eravamo consapevoli dei nostri limiti fisici e sentivamo che fosse importante una quindicena di anni fa che appunto i ragazzi insomma già cominciavano insomma a utilizzare bene la rete e via dicendo allora era importante per noi ancora prima di essere un po' meglio strutturati e organizzati diciamo fisicamente e comunque intanto proiettarci sul web andare a intercettare insomma l'utenza potenziale e qui ecco si ha il link insomma al catalogo online e via dicendo non sto ad aprire perché poi se avrete così la curiosità la bontà di andare un pochino a curiosare troverete insomma tutti i vari link e tra allora quindi da una parte in termini di sostenibilità del servizio ecco assolutamente vincente la cooperazione sia con appunto organizzazioni istituzioni importanti appunto figuriamoci insomma servizio bibliotecario nazionale e varie altre istituzioni ma anche la collaborazione proprio la rete come posso dire di persone che si mettono a disposizione con le loro competenze piccole o grandi con la loro disponibilità e quindi nell'ambito della biblioteca magari non so c'è chi è più versato per attività creative perché in passato ha frequentato insomma il liceo artistico insomma una vena particolarmente creativa e allora lo spazio per esempio e così è accaduto insomma per per il decoupage per organizzare per allestire le varie vetrine tematiche che organizziamo nell'ambito appunto di questa sorta come posso dire di network di rete importanti sono gli incontri con gli esperti noi possiamo contare dall'inizio della propria attività che la biblioteca pone particolare attenzione alla salute per esempio attraverso l'istituto superiore di sanità abbiamo più volte avuto a disposizione pubblicazioni e altro e potenzialmente avremo anche disponibilità di esperti però per fortuna ne abbiamo anche in loco per esempio tutti gli anni per la giornata mondiale la giornata mondiale del diabete c'è un nostro un primario ora in pensione ma che comunque si è sempre detto è sempre stato disponibile a effettuare non solo degli incontri divulgativi diciamo informativi per cui per affrontare quei temi tipo l'ipertensione i fattori di rischio il diabete e via dicendo ma sono tutti incontri che si concludono con un check up gratuito per i partecipanti coinvolgendo magari ad esempio anche gli studenti che si stanno laureando in scienze infermieristiche ne abbiamo avuto uno tra l'altro tirocinante sembra strano ma parte del suo tirocinio riguardava insomma anche la ricerca bibliografica e anche l'impegno in biblioteca e ecco queste che sto scorrendo sono una serie di appuntamenti resi possibile per esempio con l'erborista laureato all'università di Urbino che il lunedì mattina per le persone che non lavorano e il giovedì sera esattamente in replica invece per coloro che durante il giorno ovviamente lavorano insomma e tiene degli incontri interessanti veramente molto molto interessanti uno all'inizio potrebbe vedere fatemi scorrere ecco ma che cosa ci fa guardate un attimo dove sta dove sta l'aloe in biblioteca insomma è un certo eccola qua questa bella pianta e abbiamo appunto tenuto insomma vari incontri tematici e la prossima settimana ci sarà quello conclusivo per esempio inerente alla tiroide i disturbi e che cosa è per esempio le alghe marine che possono aiutare insomma a evitare di prendere dei medicinali o altro delle uscite dei laboratori ad esempio all'aperto con i bambini insomma questo è molto molto succintamente quello che portiamo avanti un aspetto importante è anche la relazione perché con l'ente parco appiantica e anzi su questo versante sono proprio allo studio anche dei insomma degli accordi un po' più sistematici abbiamo realizzato tantissimi incontri presentazioni di libri oppure incontri appunto con i loro esperti ora sistematicamente abbiamo documentazione che io andavo ogni volta a prendere ora per fortuna mi arriva direttamente in biblioteca e quindi abbiamo un espositore di informazioni insomma della realtà locale tra cui appunto queste del parco un'ultima cosa a proposito ecco delle scelte per come posso dire per rendere diciamo più sostenibile l'attività e anche quello legato appunto alla memoria anche a costruire come posso dire memoria per esempio penso che sia una esperienza comune a tutti noi quella della festa patronale insomma la festa parrocchiale che si organizza insomma un po' dovunque insomma nelle nostre parrocchie nei vari posti d'Italia molto spesso il materiale che viene prodotto è estremamente effimero perché magari c'è il programma della festa con l'elenco degli sponsor no no sì sì ho finito con gli sponsor e quindi va bene e ho detto ma perché non trasformare diciamo cogliere questa occasione per fare anche un po' un bilancio dell'attività del quartiere non strettamente insomma della parrocchia o comunque della parrocchia nelle sue diverse declinazioni no il gruppo dei giovani il gruppo di ballo e via dicendo e quindi da anni questa pubblicazione è diventata diciamo piuttosto consistente ma è anche proprio per far sì che non si che non non si limiti soltanto alla circolazione soltanto nei giorni della festa è anche sfogliabile online e abbiamo insomma tutta la serie insomma disponibile io e su questo un secondo solo una cosa velocissima vado a chiudere non vi preoccupate aspettate faccio una cosa super 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 veloce però ci tengo perché tra l'altro la biblioteca è convenzionata con l'università ed è anche una quindi c'è anche la possibilità per gli studenti di cimentarsi in laboratori in occasioni insomma organizzare fare esperienze su campo con lettori in erba oppure con persone insomma che magari proprio un libro non lo prenderebbero mai ecco questo è un esempio anche di come produciamo a voi sembra cioè in un contesto di biblioteca sembra assolutamente ovvio produrre statistiche e via dicendo però per la realtà che rappresentiamo non è assolutamente così scontato invece per l'advocacy per la come posso dire promozione e dimostrazione che le biblioteche appunto servono funzionano ma anche per autoregolamentarsi insomma rivedere eventualmente il progetto biblioteche è importante appunto acquisire ed elaborare i dati questi ad esempio sono stati anche oggetto di una tesi di laurea molto interessante ma è un lavoro che ora viene portato avanti da un nuovo biblio volontario abbiamo pure le nuove leve e quindi Leonardo sta finendo la scuola superiore e quindi abbiamo insomma una bella continuità e io sono profondamente grata insomma a tutti loro che la rendono possibile c'è una colonna veramente importante che è Alba ma che è in biblioteca perché noi stiamo qui a godere questo bel convegno e Alba te l'hai aperta la biblioteca per noi grazie infinite vorrei che venisse Anna Laura perché adesso abbiamo avendo essendo stati un po' così severi possiamo dedicare una mezz'oretta per un breve dibattito così generale se c'è oppure delle piccole conclusioni che poi non sono conclusioni ma sono un piccolo commiato insomma un commiato concettuale con qualche idea qualche opinione allora ringraziamo tutti quanti i presenti che veramente ci hanno reso questa giornata particolarmente intensa e significativa abbiamo avuto 315 iscritti tra le varie cose da varie parti d'Italia da vari enti rappresentanti ecco un pochino della società tutta e questa cosa ci gratifica molto vi dobbiamo ricordare per favore di consegnare all'uscita il modulo di gradimento perché i colleghi lo devono poi raccogliere per gli adempimenti della qualità ringraziamo veramente anche Roberto D'Affinai a Tiro Cassellucci che tutta la giornata ci hanno assistito in tutte queste riprese li ringraziamo molto gli antipromotori intanto veramente anche Maria Benante vorrei un attimo che venisse qui Maria Benante per cortesia per cortesia Maria è straordinaria veramente vicepresidente del live nazionale veramente sono straordinarie le biblioteche e i bibliotecari Maria Benante è veramente sempre preziosa e quindi abbiamo piacere di averla qui allora per quanto riguarda dunque il dibattito chiunque di voi voglia fare domande approfondimenti fermo restando che i materiali a breve li mettiamo a disposizione sul sito attualmente già c'è la raccolta di abstract poi a breve metteremo tutti i vari contenuti insomma poi prossimamente prepariamo anche gli atti del convegno insomma cerchiamo di rendere disponibile il maggior numero di informazioni a disposizione di tutti gli interessati veramente ecco è stata molto interessante questa sessione anche pomeridiana con tanti altri stimoli molto ampi ed eterogenei questa cosa appunto di Marco Matolese è molto molto bella io ho avuto il piacere di essere proprio lì nel 2014 ospite il Bibio Pride 2014 è veramente una realtà molto calda molto viva e veramente complimenti a lei e a sua moglie sì che è una persona veramente straordinaria è una realtà importante che dà veramente un segno a tutta la tutta la cittadinanza di Taranto e devo dire anche a piccoli paesi intorno a Taranto perché molti anche i bambini parliamo soprattutto della sezione dei bambini hanno come punto di riferimento proprio la biblioteca Motolesi di Taranto quindi questo è importante per la situazione particolare di quel quartiere a questo ci teniamo tanto noi perché è importante per le biblioteche ma è importante per il luogo la comunità sì è vero si rispira un'aria particolarmente calda umana è molto bella nonostante la desolazione del luogo perché è veramente impressionante quando si arriva io la prima volta che ci sono stata abbiamo parlato anche di questa quando si arriva è una realtà molto particolare però poi è veramente resa viva dalla presenza di questa struttura lo possiamo testimoniare veramente vorrei dire che anche molti delle problemi di mia moglie contribuiscono tanto a realizzare questa rottrina di affetto nei confronti dei bambini perché la biblioteca è anche un luogo in cui si sviluppa il dopo scuola per i bambini per cui è anche un punto di riferimento per i genitori che peraltro molti di questi sono stati già lumi di mia moglie per cui vivono anche una lumi certosia attenzione vedere i propri bambini insegnanti nel mondo del supporto e ritrovare la propria insegnante che lì ancora una volta è disponibile anche la propria opera questo per loro è molto importante benissimo allora se qualcuno vuole fare qualche domanda è il benvenuto se c'è in platea qualche curiosità anche l'intervento del CIS è stato particolarmente utile ha segnalato varie tematiche di grande interesse insomma approfondiremo sicuramente altre cose anche sui disastri sismici senz'altro è un altro aspetto particolarmente poi la la bioteca dello statuario anche un'altra realtà interessante insomma devo dire ecco diciamo speriamo di essere riusciti in qualche maniera in questa giornata scusate un po' intensa un po' convulsa per alcuni aspetti però speriamo di essere riusciti a dare come dire degli stimoli a 360 gradi ecco per dire che le biblioteche ci sono i bibliotecari sono tutti molto motivati e animati da grande da grande entusiasmo e quindi insomma per rendere giustizia insomma alla cultura italiana insomma che effettivamente ha bisogno anche di stimoli diciamo particolarmente intensi allora e adesso a questo punto non lo so se non ci sono domande forse la giornata è stata lunga probabilmente sarete anche stanchi ecco speriamo che con il materiale che avete in cartellina tra il calendario bibliambientale insomma questi altri decali ecco dateci un feedback ci farebbe piacere sapere ecco di volta in volta troveremo il modo dal sito di insomma di recepire eventuali iniziative organizzate a tema ci farebbe piacere veramente ringrazio ancora tutti quanti tutti quelli che hanno partecipato sono stati tanti di nuovo tutti gli antipromotori Lab Puglia Lab Lazio il CNBA la rete SNPA veramente è stato un lavoro di equip sul serio poi tutte persone impegnatissime con altre cose che vivono in realtà in città diverse veramente ringrazio Raffaella Inglese per tutta la straordinaria il straordinario impulso che ha dato Laura Armiero Vittorio Consani Valdemaro Morgese Maria Benante Luisa Marquard insomma veramente Sara Belli siamo veramente era un gruppo molto composito veramente insomma tutti hanno dato tanti stimoli tante idee è stato bello creare tutti questi questi elementi queste cose questi tasselli ecco è stato bello un lavoro di gruppo trasversale con molta energia insomma veramente insomma penso che possiamo essere contenti di questo perché è stato anche piacevole stancante ma piacere infatti dilla Luisa questa cosa proponiamo per il 2017 speriamo ospichiamo di poter organizzare qualcosa e speriamo appunto anche di mettere i frutti di quello che è stato il lavoro di quest'anno diciamo di questo periodo vediamo e anche quanto possiamo costruire anche su questa base ecco di questi stimoli che sono stati dati vediamo quante quante altre cose creiamo vediamo che cosa anche questo tra le biciclette ecco cerchiamo di fare una biciclettata tra biblioteche di Roma almeno di Roma riusciamo a farlo altrove ecco ci direte come lo farete insomma speriamo anche appunto di ricevere questi input che abbiamo avuto dal professor Nebbia per esempio sul recupero di queste biblioteche vediamo un po' adesso l'ottore Samoroni mi saprà dire che cosa possiamo fare noi per recuperare eventuali riusciamo un appello stavo qui ho speso che ormai non sia tutto il momento però magari si vede la prima non è perché in realtà dicevo stava c'era c'era stava 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 ho lasciato un appello un po' attorato e non posso che cosa sono queste le realtà che vi riferivo ma le realtà sono nazionali della pubblica manifestazione e quindi il problema è importante perché di sopravvivenza e quindi continuare a fare servizio è fondamentale per fare tutte le comunità gli eventi organizzare cose ma se non fanno di sopravvivenza secondo me se non fanno di sopravvivenza questo devono fare altrimenti non scompagno purtroppo questo io lo sento da gestore da gestore non più da pubblicare ma in progresso ho seguito con molto interesse e mi fa molto piacere vedere tutto questo movimento queste realtà diversificate ma noi però nella pubblica amministrazione a livello nazionale abbiamo tipologie diverse di problemi dobbiamo trovare un momento in cui ci riuniamo e capiamo come andare avanti io penso che con il CNR con il istituto sull'evoluzionità oltre che rafforzare già i network e quindi questo è stato importante capisco che ora ho un po' gelato la tutosfera però secondo me per la nostra vita il servizio che noi dobbiamo dare alla nostra cenza è fondamentale trovare dei dei momenti di incontro con chi è decisore benissimo questo vale se mi è consentito vale per tutte le tipologie di biblioteche perché anche per quanto riguarda esperienze come posso dire che sono nate così diciamo dal basso spontaneamente io dicendo se la biblioteca non è significativa per i suoi utenti se non intercetta le loro i loro bisogni di informazione di lettura di studi di ricerca quello che sia dei risposti appunto che a loro servono quindi diversamente perdono il significato e automaticamente può essere la biblioteca più bella del mondo ma è destinata poi a non avere quella vita che noi ci auguriamo perché è proprio il punto di incontro tra l'informazione e la persona che ne ha bisogno quale che sia insomma e quindi poi certo maggiormente i menti di ricerca questo è un po' però è un po' restare diciamo alle quattro armi significative anzi per certi interessi anche un pochino per ricordere e portarsi davanti insomma è quello che possono rispondere dei servizi a cui magari altri ancora non hanno pensato sicuramente è un diciamo la cando di volta nel senso anche la relazione con gli utenti diciamo effettivi o anche potenziali andare a indagare bene quali sono le loro esigenze come si muovono perché probabilmente hanno bisogno di alcuni servizi che noi o non riusciamo più o non riusciamo ancora a dare quindi lavorare insomma su questi punti benissimo allora ah poi un'altra cosa interessante effettivamente che mi veniva in mente è i colleghi nostri delle A delle A passo mi viene in mente per la Sardegna perché abbiamo qui la presidente Aib Sardegna e la collega invece Ignazia Casula della rete SNPA per cui effettivamente può essere adesso come città di residenza credo che sia Sassari e Cagliari effettivamente diciamo non proprio però come dire si può magari come dire creare una bella sinergia e connessione sì sì insomma in qualche maniera effettivamente per supportare maggiormente anche a livello locale la nascita di un centro di documentazione proprio secondo tutti i grismi benissimo allora ringrazio tutti i colleghi delle ARPA venuti da varie parti d'Italia appunto Sardegna Trento Liguria Emilia Romagna Toscana Lombardia insomma sono stati tutti presenti Umbria Umbria per carità l'Umbria me la sto dimenticando oggi invece è una realtà particolarmente viva e efficace abbiamo Enrico Paris che è veramente una forza della natura perché è molto in gamba insomma quindi effettivamente ecco grazie a tutti per essere venuti alle scuole ci ha fatto piacere moltissimo la partecipazione delle scuole dei docenti sia per le locandine sia per la presenza fisica e tutti ecco tutti i colleghi delle altre biblioteche di varia tipologia c'erano vari colleghi di vari altri enti vari altri ministeri insomma effettivamente ecco la tipologia della platea era particolarmente varia e quindi per approcci interdisciplinarie e trasversali ci sembra particolarmente significativa allora ringraziamo veramente ancora tutti quanti la nazionale per l'ospitalità